Cominciamo di nuovo questo percorso del quarto anno. Questa esperienza la facciamo per crescere e noi abbiamo iniziato partendo da un obiettivo di miglioramento del nostro istituto e in questi anni abbiamo lavorato in questo senso. Questa esperienza deve servire a migliorare l'attività didattica quotidiana. E' stato partendo per un'esperienza bellissima, io ho fatto l'Armus 8 anni fa quindi me lo ricordo ancora come una delle cose più belle che abbiamo mai fatto. Viva l'Armus! 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 Sono stato veramente contento di essere stato scelto per questo progetto e devo ringraziare i professori comunque per questo e non potevo chiedere di meglio. E' soprattutto con la gruppa di studenti che abbiamo qui nel hotel, siamo molto felici con tutti. Sono davvero bellissimi, bellissimi professionisti e credo che ci sono davvero migliori in futuro. Viva l'Armus! Viva l'Armus! Viva l'Armus chi si trova a fare un'esperienza di questo tipo, ti può dire che è l'esperienza della loro vita. Inizialmente ero molto ansiosa, un ristorante del genere in questo livello non lo ritenevo alla mia altezza, però lavorando qui e imparando ogni giorno sono riuscita a diventare una parte del loro staff. Come considero la preparazione tecnica? Lo considero molto buoni, molto disciplinati. E' importante che hanno investito molto tempo dentro di una cucina, cosa che è importante per la formazione, per sapere dove posizionarsi dentro di un spazio riducido, controlla che hai diversi compani di lavoro, e poi trattano il prodotto con molto cariño, si notano che hanno molto interesse per quello che facendo, e questo è molto importante per noi. Se sono interessato in ripetere la esperienza, sì, per ovviamente. Se hanno il stesso rigore, disciplina e il stesso aprendizaggio, per noi è importante. Il buon inizio mi spaventava, perché comunque prima esperienza, ho solo 19 anni, quindi all'estero due mesi senza famiglia, insomma, non è semplice, però è andata bene, adesso sono giunta al termine, ma lo rifarei altre molte volte. La collaborazione con gli istituti italiani, è magnifica, perché ci fa mixare culturazioni, ci fa mixare diverse, ci fa mixare diverse, ci fa conoscere gente meravigliosa e gente molto lavorata, come è Marta, e soprattutto con Smovia, perché ci piace molto che vengano molto preparati, gli studenti, e viene soprattutto con una attitud di lavorare molto avanzata, cosa che cuesta incontrare in altri istituti o in altre promozioni, perché al final noi apprendiamo più di loro che di loro di noi. Migliorare questo progetto significa formare meglio i ragazzi prima della partenza, formare i ragazzi all'esperienza, perché comunque è un'esperienza traumatizzante per loro, per certi punti di vista, si trovano a vivere fuori in un contesto diverso, in una cultura diversa, si incontrano con cibi differenti, per molti di loro è la prima volta fuori di casa, quindi crea ansia, crea stress, crea paure. Musica 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 Sono quattro mesi oramai, mancano un paio di mesi alla fine, sta andando tutto bene. All'inizio avevo qualche difficoltà, ma era l'obiettivo, insomma, come siamo venuti qui per imparare l'inglese, direi che sta andando tutto molto bene. Proprio devo essere sincero, all'inizio ero un po' scettico. Kefalos Beach Village ha una capacità di quasi 1200 persone, mi è stato offerto un contratto lavorativo e penso di accettarlo e di rimanere qua. con i colleghi, un ottimo team, divertenti, ci divertiamo e lavoriamo tutti insieme. Noi siamo arrivati che veramente facciamo qualche niente, dopo un mese siamo riusciti bene o male a prenderci in gestione tutta la, appunto la parte dello shoe cooking e di alcune preparazioni del buffetto, diciamo, quindi è andato più che bene. Musica 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 È come un bagaglio pieno di esperienze, impari cose che magari a scuola non impari. Siamo obbligati per 8 ore comunque a parlare inglese, capire l'inglese. Ad esempio questa è la sala ristorante, che in questo momento ospita 1500 persone, infatti l'hotel è full, siamo una brigata di 20 persone in cucina e altrettanto in sala. Musica 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 제 Musica Le e e Welcome in our city Mr. Mayor, grazie per la tua hospitality e per la tua hospitality Welcome to the last day of activities He said grab your things I come to take you home Eleggere qua Poleto 798.853.000 euro Il nuovo finanziamento ufficiale Questo è l'approvazione del quinto progetto consecutivo Questo significa che anche il prossimo anno ci sarà l'opportunità per gli studenti delle scuole, partner di fare di nuovo questa esperienza sia per i ragazzi che fanno il pro program cioè i sei mesi, sia per lo short program che fanno i due mesi Attraverso questo scambio creiamo l'Europa si crea l'Europa La finalità è proprio quella costruire l'Europa Creare cittadini europei Consiglio perché uno cresce e non è sempre Il proprio A tutti Dio 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 Grazie.